Assessore Garavaglia, parliamo della riforma del Senato e titolo quinto che sono passati ieri in Consiglio dei Ministri. Lei conosce bene il Senato perché c'è stato fino a poco tempo fa. Renzi ha detto che ci sono questi quattro paletti, non voterà la fiducia, non voterà il bilancio, non ci saranno più le indennità e non saranno più i senatori eletti direttamente. Porterà veramente dei risparmi? È una riforma giusta o no questa? I risparmi sono relativi all'indennità dei senatori, quindi il risparmio effettivo di questo modello che tra l'altro sotto questo aspetto era già il modello che avevamo portato avanti noi quando stavamo completando la riforma, è quindi relativo a circa 54-55 milioni di euro, cioè l'indennità dei senatori specifici. Il resto chiaramente rimane tutto perché è il personale, la struttura e quant'altro, quindi le cifre sparate sono le solite sparate di Renzi, del resto lo chiamavano il bomba a scuola perché ne sparava grossi. Ma al di là delle battute, che sono battute fino a un certo punto, ciò che conta è come funzionerà questo nuovo Senato e quale competenze avrà. Secondo noi è assolutamente fondamentale che ci sia una Camera delle Autonomie, Camera Senato, diciamo Senato perché adesso si è scelta questa via. Il Senato dell'Autonomie quindi è assolutamente necessario perché completa la riforma federale dello Stato. Il buco della riforma fatta dalla sinistra principale era questo, la mancanza di una Camera rappresentativa dell'Autonomie. Ciò detto, bisogna vedere come la fai. Certo, se la fai come ha scritto Renzi, in modo tale per cui il Molise, che ha 310 mila abitanti, agli stessi rappresentanti della Lombardia che ha 10 milioni di abitanti, se la fai così è un pesce d'aprile, del resto è il primo aprile. È ovvio che devi tener conto della dimensione delle varie regioni nella rappresentanza, questo è assolutamente importante. L'altro tema fondamentale è definire bene le competenze, cioè quali competenze rimangono poi alle regioni, quali invece tornano allo Stato, quali rimangono comunque concorrenti perché ci saranno sempre delle materie che sono a cavallo. Ecco, come regione abbiamo elaborato un modello che funziona, quindi all'unanimità la conferenza Stato-Regioni, d'intesa tra l'altro anche con l'Anci, ha trovato una modalità che può funzionare, cioè individuare una commissione bicamerale che va a dirimere le questioni di una serie di materie che inevitabilmente saranno concorrenti. Pensiamo alla sanità, è tutta regionale, ok, ma la determinazione dei LEA può essere solo in capo allo Stato? No, è evidente che deve esserci una compartecipazione. Ecco, in questo modo si completa una riforma, si fa una cosa buona e giusta. Se invece si fa uno spot, tale rimane e l'esito purtroppo non potrà che essere negativo. La decisione della bicamerale di cui parlavo è quella che è stata raggiunta la settimana scorsa nell'ambito della conferenza delle regioni? Sì, nella conferenza delle regioni abbiamo elaborato delle proposte di modifica sul testo base del governo che già circolava e se il Parlamento prendesse per buone queste proposte di modifica fatte dalla conferenza del Stato-Regioni, ribadisco, di intesa con l'ANCE, quindi è d'accordo tutto il mondo dell'autonomia, è la volta buona che si fa un buon lavoro. Se invece ci si incarta in beghe politiche, purtroppo saremo di fronte all'ennesima occasione mancata. Vediamo, probabilmente in questo caso fretta e bene non vanno insieme, poi ci sono le elezioni di mezzo, stiamo a vedere che succede. Il Ministro Boschi in un'intervista ieri ha detto che non ci sarà uno svuotamento delle regioni, che insomma è un limite dei poteri legislativi, però per esempio in materia fiscale ci vorrà la maggioranza assoluta della Camera se il Senato dirà dei no. Questo può essere una garanzia secondaria oppure no? No, perché qui parliamo di bilanci e competenze statali, quindi questo importa poco. Ciò che importa molto agli enti locali è il coordinamento della finanza pubblica. È giusto che i principi generali siano in capo allo Stato, ma è evidente che il coordinamento a livello locale deve essere lasciato alle regioni, altrimenti non funziona, semplicemente non può funzionare. Ne faccio un esempio. Con la legge sul pareggio di bilancio, dal 2016 l'obiettivo del debito viene definito a livello regionale. Perfetto. Se è definito a livello regionale, come si fa poi a distribuire questo obiettivo tra i singoli enti? È ovvio che lo deve fare la regione di intesa con i propri enti locali e con l'anci regionale. È chiaro che se questa cosa poi viene fatta a livello nazionale, non funziona. Come al solito viene fuori un pasticcio. Sono gli ultimi due punti di cui ha parlato ieri il premio a Renzi. Uno riguarda l'abolizione della CNEL, che ha detto che è un primo passo in anticipo di quello che sarà la semplificazione della pubblica amministrazione. Visto che lei è la delega alla semplificazione, le chiede un parere. Il CNEL è perfettamente inutile, quindi anche se lo abolisci non si accorge nessuno. Un altro ultimo punto. Ha detto che adesso bisognerà approvare il LADEF, documento di economia finanziaria, e poi arriveranno questi con dei decreti, questi 80 euro in più in busta paga. Tra l'altro entro breve. Secondo lei sarà possibile oppure no? Allora, per l'anno in corso, partendo poi a fine anno, a metà anno, servono 4 miliardi di euro. Sarà possibile trovarli. Oggettivamente è difficile, dato il rispetto dei vincoli europei, e visto anche come sta andando il debito, il deficit e quant'altro. Dobbiamo solo aspettare. Finora siamo agli slogan e agli annunci.